Azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di capannoni e strutture logistiche refrigerate, e nella produzione ed installazione di porte frigorifere in genere. Da oltre 30 anni nella refrigerazione industriale su tutto il territorio. Sempre all'insegna dell'innovazione progetta e brevetta l'innovativa porta frigo rapida. Il rullo stop Il sistema completamente autonomo a totale protezione degli addetti alle operazioni nelle baie di carico delle piattaforme logistiche.